Palazzo Lascaris ha ospitato la conferenza dell'Associazione dei Sostenitori della Scuola Rudolf Steiner di Torino sul disegno infantile percorso dall'universale all'individuale. Dopo il saluto della vicepresidente del Consiglio regionale, Maria Teresa Fossati, componente del CDA della Scuola per l'infanzia paritaria, ha introdotto la maestra steineriana Claudia Sala, che ha illustrato dalla platea l'importanza del disegno nei primi anni dell'evoluzione del bambino.